Il Florovivaismo sulla via Aurelia all'altezza di Aranova offre una panoramica di aziende storiche. Una di queste è di Erika Mancinelli, che ha ereditato la passione dai genitori. Sono almeno 30 anni che siamo sul territorio, siamo presenti sul territorio, ci siamo modificati nel tempo, come tutte le aziende che convivono qui con noi nel territorio. Ormai ho cominciato mia nonna, mio papà e poi sono subentrata io. Sì, ci occupiamo di tanti settori, dalle piante per esterno, alle piante all'interno, articoli da regalo e poi ci organizziamo eventi, quindi matrimoni, comunioni e tutto ciò che riguarda il settore del Florovivaismo. Un percorso che continua, sperando che i figli siano gli eredi del loro grande lavoro. Sì, la nostra è una tradizione di famiglia proprio, nasce proprio da una volontà e da una passione che ci siamo trasmessi e che cerchiamo di trasmettere anche agli altri. E i vostri figli continueranno sulle vostre tracce? Ma io me lo auguro, ma insomma non saranno costretti a fare questo. Però sicuramente è una passione che si trasmette, quindi anche loro si divertono a giocare a questo lavoro. Grazie a tutti.